Avrei voluto giocare tutte le partite per vedere dove sarebbe arrivata veramente questa coppia. Tu, quando segni, vai a esultare di fronte ai tifosi, alla gente che vedi praticamente tutti i giorni che ti osannano, ti stimolano, è una sensazione particolare, è una sensazione da brividi, dai, parliamoci chiaro. Quest'anno anche quel pizzico che ci hanno dato in più è stato il fatto che noi mentre facevamo il riscaldamento sentivamo proprio arrivare loro, no? Se può essere quella partita che sei meno concentrato, ci può essere una giornata che senti meno la partita. Quando sentivi quella carovana, quella cosa di gente che veniva, è una spinta in più che c'è stata e non possiamo nascondere che non può essere stata determinante. Quest'altro anno, gli anni che verranno, quando comunque si parlerà di eccellenza e comunque faranno i conti e comunque il campionato d'eccellenza andrà avanti e parleranno di eccellenza, ci sarà il Forigno che ha il maggior numero di punti. Quindi resterà comunque una traccia che fin quando un'altra squadra non la cancellerà si parlerà di noi altri.